Radio No. 1 del BlackBerry Z10 qualche giorno fa vi ho scritto di un prodotto di cui ero profondamente deluso per la batteria che durava pochissimo, ieri misteriosamente sono arrivato a sera con la batteria, il giorno prima ho finito la batteria a mezzogiorno con il telefono che era rovente per tutta la mattina ma veramente molto molto caldo con temperature, ma davvero era fastidioso tenerlo in tasca, il giorno prima ancora il telefono è arrivato quasi fino a sera senza grosse difficoltà. La particolarità è che una delle cose che mi divertono molto è studiare la relazione causa-effetto quando c'è qualche problema nell'utilizzo di un device, però nel caso del BlackBerry Z10 non mi riesce di farlo, se sto cercando di capire quali possano essere variabili attaccato al wifi, acceso GPS, in 3G, in 4G, mettendo insieme tutti i pezzi di ciò che sta facendo il telefono nel momento in cui si scalda e comincia a consumare molto non riesco a trovare una risposta. C'è da dire che il più delle volte, ho seguito le indicazioni di un forum canadese, in più delle volte basta riavviare il telefono un paio di volte perché smetta di scaldare in quel modo e quindi di consumare in modo eccessivo. Però è veramente curioso, ad esempio ora, fino a qualche minuto fa, il telefono era in stand-by appoggiato qui sul banco di regia di Radio Number One e il telefono era caldo. Non stava facendo assolutamente nulla, nel senso che è stato acceso e poi appoggiato qui sopra. Adesso è tornato ad avere una temperatura normale. Volevo mostrarvi di questo prodotto una delle funzioni di cui se cercherete informazioni non troverete traccia. È impressionante questa cosa come da nessuna parte sia scritto se questo telefono ha un navigatore satellitare con le indicazioni turn-by-turn, quindi curva dopo curva, oppure no. Io non sono riuscito a trovarle sul sito di BlackBerry, non sono riuscito a trovarle su molti dei forum di appassionati e ieri ho provato ad utilizzare il sistema di mappe che volevo adesso mostrarvi perché ha una specie di soluzione che è una via di mezzo. Ad esempio, io faccio una ricerca, vi mostro una delle ricerche che ho fatto ieri, ad esempio quella per Piazza Duomo di Milano. Vedete, lui consiglia quelle che sono una serie di soluzioni possibili, Piazza Duomo Monza, Piazza Duomo Bergamo. In questo caso io invece voglio andare in Piazza del Duomo a Milano. Sono a 47,1 chilometri dalla Piazza del Duomo. Se scelgo la navigazione, basta che io clicchi su questo pulsante perché la navigazione venga tracciata. E vedete, il tracciato sulla mappa viene fatto immediatamente. Sono 54,1 i chilometri stradali, ci vogliono 42 minuti per arrivarci. Se io parto con avvia, la cosa misteriosa è che, e su questo io vi chiedo aiuto, se voi avete qualche conoscenza più di me, perché io sono un utente che smaneta sugli oggetti, non sono uno scienziato, è che adesso rimarrà con questo comando di avvio navigazione finché io non riesco, non esco all'aria aperta. Per qualche modo, per qualche ragione, finché non ci si muove, non si arriva sulla strada, questo avvio di navigazione non capiterà. Ma l'altra cosa ulteriormente strana è che io rimarrò con questa visualizzazione per tutto il tempo. Avrò da questa parte, come vedete, le indicazioni su quale strada prendere, su quale percorso fare, ma nonostante qui mi dica che posso vedere le indicazioni turn by turn, vedete, in realtà questa cosa non succede. E quindi la risposta che non ho è, ma questo oggetto ha un navigatore satellitare oppure no? Perché vedete infatti che anche il tracciato, quando io zoomo, sparisce. Mentre se torno a utilizzare lo zoom completo, quindi con la visualizzazione totale della mappa, a questo punto mi fa vedere anche il tracciato. Mentre se aumento lo zoom, mi fa vedere le condizioni di traffico, che in questo caso sull'autostrada non sono ottimali, c'è una riga rossa che indica il traffico intenso, ma non mi fa vedere il tracciato finché non ho la panoramica totale. E come potete vedere, avvio navigazione ancora in corso. Adesso ho chiesto anche l'UMI all'ufficio stampa di Blackberry per cercare di avere delle informazioni in più, però volevo condividere questa curiosità riguardo ad una delle funzioni che secondo me fondamentali oggi nell'utilizzo di uno smartphone, che è la navigazione, su cui però è difficile trovare le informazioni. Ieri ho provato WisePilot, se volete vi posso far vedere anche quello. WisePilot che è un porting da Android, lo capirete da mille cose, da diverse cose che vi farò vedere. Un porting da Android, così come succede per molte delle applicazioni che sono già nello store. Allora, c'è questa particolarità, ieri ad esempio cliccando su, no, questa volta funziona, perché ieri cliccando ad esempio su indirizzo non c'era modo di arrivarci. Vado su luoghi, ad esempio, ristorazione, ne trovo uno a caso, vediamo di trovarne qualcuno. Vedete, avete visto la schermata? La schermata è rigorosamente, ma proprio rigorosamente una schermata di Android. Andiamo ad esempio a questo ristorante, facciamoci calcolare a questo punto la navigazione in auto. Vedete anche questa schermata che è una schermata del vecchio Android Gingerbread, in tutto e per tutto. Quindi è un porting di una applicazione Android. Però devo dire che WisePilot funziona ad esempio molto 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 bene. Ho cercato anche di trovare il il, vedete, adesso mi ha trovato, mi ha tracciato praticamente il percorso, scusatemi, mi ha tracciato il percorso, mi sta portando insomma a destinazione. Vabbè, comunque insomma, di questo abbiamo visto. Devo dire che ho cercato anche il BlackBerry Navigator che è nel BlackBerry Beta Lab, ma non esiste ancora per il 10.0, per il software 10.0. Invece per quanto riguarda altri navigatori, non ho ancora verificato ad esempio la disponibilità di Waze. Di fatto rimane quel punto di domanda, adesso sto cercando di trovare delle risposte sul navigatore satellitare invece, diciamo, stock, che è di default per questo BlackBerry Z10. Nei prossimi giorni vi darò aggiornamenti tanto sulla durata della batteria, che è strana, è veramente stranissimo, non riesco a capire perché sia così altalenante quanto su questo dato sul navigatore satellitare.